sono andato allo stadio questa sera con la speranza di poter diciamo avere una piccola soddisfazione dopo le delusioni che la mia prima squadra del cuore cioè la roma mi sta portando in campionato e invece anche il gubbio purtroppo si porta a casa nel vero senso della parola la seconda sconfitta consecutiva contro il siena sono lo dico senza nessun problema quelle classiche partite che ti dà davvero fastidio perdere non perché magari hai dominato perché non è questo il caso se trattate di una partita equilibrata con alcune occasioni da una parte dall'altra quelle classiche partite sporche visto anche che ha piovuto per lunghi tratti in alcuni momenti anche in maniera molto pesante che si decidono con un episodio a favore o a sfavore in questo caso come ha detto anche torrente nel post partita il siena si è dimostrato la squadra più esperta quel tipo di squadra che questo genere di partite le riesce a vincere come poteva essere ad esempio la juve fino a qualche tempo fa tu sei una buona squadra l'ho sempre detto tecnicamente il gubbio ha migliorato tanto è una squadra che riesce a creare molti più pericoli in zona offensiva e a livello generale comunque ha più un'identità di gioco rispetto alle scorse stagioni però non riesce ancora a fare quel salto di qualità per vincere senza dominare cioè noi spesso e volentieri dobbiamo fare la partita perfetta e neanche basta per ottenere la vittoria mentre invece squadre come il siena riescono a ottenere punti anche senza un dominio effettivo sul terreno di gioco anche perché lo dicono proprio i dati a livello di tiri in porta non credo che ne abbiano fatti più di tre o quattro poi sicuramente ce ne sono stati qualcuno di più ma di con veramente pericolosi oltre due gol c'è stato veramente poco diciamo che è stata una partita che è andata molto a sprazzi all'inizio mi è sembrato un gubbio comunque anche volenteroso in zona offensiva poi è cresciuto il siena a lungo andare ho visto poi che il gubbio si è chiuso di più sulla difensiva è arrivato un gol capolavoro del loro centrocampista da fuori con la palla che è andata sotto l'incrocio e lì le cose si sono complicate però nella ripresa ho apprezzato molto la reazione dei nostri che non si sono arresi hanno capito che comunque sul 1 a 0 tu potevi rimetterla in gioco tranquillamente ed è arrivato il pareggio su rigore un rigore molto contestato da tifosi giocatori e allenatore ma allenatore comunque in maniera molto più tranquilla io vi dico la verità dallo stadio e dalle prime immagini che ho visto sui vari social a me sembrava un rigore netto però se si sono lamentate così tanto forse non lo è così tanto però io vi ripeto vi dico quello che ho visto e sto facendo il video subito tornato da casa quindi non ho avuto ancora modo di vedere delle immagini ancora più più nitide e lo dico sull'una uno ci ho sperato perché era già un momento in cui il gubbe era cresciuto particolarmente poi vai a pareggiare mancavano ancora 20 25 minuti scusato il singhiozzo e ho detto cavolo sull'una uno il siena sarà anche un po impaurito e proviamoci proviamo a buttarla dentro potremmo vincere e quando tu dici provo a buttarla dentro è successo invece l'esatto opposto ed il siena anche in maniera un po fortunosa è riuscito a trovare il gol del vantaggio tra l'altro devo dire che mi ha dato particolarmente fastidio l'esultanza del loro giocatore che è andato praticamente sotto la curva del gubbio con le orecchie tipo a chiedere i classici le classiche esultanze polemiche per andare a andare a dare fastidio diciamo ai tifosi avversari io non capisco effettivamente il perché di questo gesto però se veramente se tu guarderai mai questo video sappi che sei veramente un piccolo uomo perché veramente potevi benissimo esultare io non dico è giusto esultare per un gol soprattutto all'ultimo secondo di una partita equilibrata e combattuta però andare a rompere i coglioni ai tifosi avversari proprio a dargli fastidio e a creare praticamente a dare il via alla rissa che poi è partita ufficialmente diciamo al fischio finale dell'arbitro conferma come tu magari sei stato bravo a segnare ma sei veramente mediocre dal punto di vista umano piccolo appunto personale perché veramente non ho capito dopo quel gol perché andare sotto la curva quando in realtà penso che lui come tutti i giocatori avversari viene fischiato perché sono avversari e non penso che c'era un qualcosa di personale però si vede che ha voluto fare il protagonista perché c'erano anche le telecamere di Ray Sport allora ha detto sai che faccio mo se segno vado sotto la curva avversaria così faccio il mazzone della situazione invece no c'è stato un'altra cosa che finisce conone e non era mazzone state e sa quelli che guarderanno questo video che definizione ho deciso di dargli comunque ecco da fastidio perché la prima sconfitta interna in casa da fastidio perché la seconda sconfitta consecutiva è sempre per un cavolo di gol in partite che tu con un po' più di fortuna potevi anche portare a casa con un pareggio non dico con la vittoria e ecco dobbiamo rimboccarci le maniche dobbiamo cercare di ritrovare subito i punti perché la classifica è corta e sono bastate due sconfitte subito si è sceso di diverse posizioni però ne basterebbero anche altre tante di vittorie e potresti tornare in in zone ben più alte quindi dobbiamo solo pensare che c'è tanto da lavorare che queste partite purtroppo si possono vincere ma si possono anche perdere e non bisogna demoralizzarci soprattutto non bisogna arrabbiarci perché così facciamo solo il gioco dei nostri avversari detto questo ragazzi allora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di gubbio siena 1 a 2 se l'avete vista allo stadio in tv o dove volete voi fatemi sapere se secondo voi è stata una sconfitta giusta oppure sarà più giusto il pareggio o anche la vittoria del gubbio se se l'avete avvenzato in questo modo e vi saluto anche dal secondo marchese che non ha fatto il video con me nonostante abbiamo visto la partita insieme perché era visibilmente nervoso quindi non ho neanche insistito più di tanto perché so cosa vuol dire diciamo essere arrabbiati quando la tua squadra perde partite così lo so doppiamente sia con prima che seconda squadra del cuore però cerchiamo di andare avanti perché quello che sarà quello che adesso è delusione sono sicuro che più avanti diventerà soddisfazione con pazienza e voglia di migliorarci un saluto ragazzi sempre forse gubbio alla prossima